ma con me sono asciuto che la pioggia sono asciuto appena sono asciuto sta piano a chiovere caro sindaco si vergogna va bene oh sono asciuto e venuto a chiovere ragazzi ecco qua un saluto a Capoggi a Capoggi grande telefono per tutta parte Capoggi per tutta parte io mi sbaglio perchè oggi ho pittato la capilla ma con l'acqua mi sbaglio è un signore ragazzi è un signore guardate però vorrei fare un appello per poi si è possibile i salernitani eh salernitani è bravo fateci a voi o Napoli ma vergognatevi vergognatevi una città come bella come Napoli guardate ma che personale perchè si vinceva la salernitana non eri contenti no io no io non sono contento io non sono contento voi andate a campagna andate a campagna qui e tutti i salernitani un bacione ma ci fai sportivo ciao ragazzi te ne vado ecco sta chiudendo cosa ce la facciamo la gioia o no? ma non lo faccio se c'è la mandoiova eh ma il violino eh Alessandro due più uno eh eh tre lo scudetto è matematicamente vinto lo scudetto è matematicamente vinto eh sì certamente domani festeggiamo o no? stiamo a festeggiare ma eh e un bacio a tutti stiamo a scendere ora stiamo a scendere ora stiamo a scendere e chi va ancora? in macchina in macchina Raffaele in macchina 2 più 1 8 no come? no 2 più 1 quanto fa? 8 signora 2 più 1 3 bravo lo scudetto lo scudetto è matematicamente vinto ma figli ti non lo porto all'ospitalo perchè non lo posso ho fatto quattro dose aiuto all'ospitalo ma ma da quante aiuto si è andato male? eh si fa una volta ora oh ciao è vero? è hai detto sì non ce la fai più è puoi fare è uscito il cuore subito oggi è faticato pagare spesso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti